Ascea, provincia di Salerno, Palazzo Ricci, mi trovo qui in occasione del convegno dal titolo Moto e Longevità, inserito nella tre giorni di For Longevity, edizione 2022. Il convegno è iniziato con l'intervento, i saluti e l'introduzione dei lavori di uno dei componenti della segreteria scientifica, il dottor Vincenzo Pizza, direttore dell'unità operativa di neurologia del Pio San Luca di Vallo della Lucania. Sì, allora questa è la sesta edizione di questo appuntamento, di questo evento, che riprende dopo purtroppo due anni di stop per le vicende note a tutti e questo è stato un grosso sforzo per cercare di recuperare questa iniziativa e di riavviare un processo di condivisione con gli altri, di argomenti a tutto tonno che non riguardano soltanto alcuni aspetti ma che cercano globalmente di intercettare alcuni aspetti della nostra vita quotidiana. Soddisfatto molto il responsabile provinciale della SNALV Comparto Sanità, Gennaro Vasile. Innanzitutto un ringraziamento a tutti i relatori del convegno, in primis al dottor Vincenzo Pizza che ci ha dato anche quest'anno la possibilità di essere collegati con il dottor Luigi Orio dal Brasile, appositamente per noi, che è il presidente dell'Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo. Innanzitutto dopo questo periodo di pandemia siamo di nuovo qui puntuali a questo appuntamento perché lo SNALV ci tiene alla possibilità di poter fare un aggiornamento anche ECM in modo residenziale, quindi favorendo la partecipazione di tutti i nostri iscritti. Tra gli argomenti discussi, officina e longevità a cura del dottor Giovanni Canora, membro fondatore e ricercatore di medicina mediterranea tradizionale Centro Studi Scuola Medica Salernitana, Cava dei Tirreno Salerno. Bene, noi abbiamo con il dottor Luciano Mauro che è direttore della Giardina della Minerva abbiamo fatto questo progetto che si chiama Simplicia che è il recupero dei semplici della Scuola Medica Salernitana, fatti con degli estratti a freddo, dei macerati gliceroalcolici, di piante che erano nel repertorio della Scuola Medica Salernitana dei medici salernitani. È un repertorio che si potrebbe definire repertorio per la salute, per nutrire la salute, quindi ottimo per gli sportivi, ottimo per i bambini, hanno una funzionalità anche per equilibrare dei disturbi e soprattutto questi rimedi non hanno tossicità, non hanno effetti collaterali. Libri e benessere a cura del dottor Giambiero Volpe, neurologo dirigente medico dell'Unità Neurologia del Pio San Luca di Vallo della Lucania. Pare che la lettura possa avere un'azione diretta sulla longevità. Questo sta emergendo da vari studi. Gli studi presenti oggi in letteratura sembrano indicare chiaramente che leggere frequentemente e quindi questo significa leggere almeno tutti i giorni per un certo numero di ore al giorno possa essere utile per un invecchiamento migliore per aumentare anche la lunghezza della vita. Tra gli altri anche l'intervento dal titolo Corsa e benessere a cura del dottor Francesco Palladino, coordinatore dei fisioterapisti dell'UOS di recupero e riabilitazione del Pio San Luca di Vallo della Lucania. La mia relazione è stata sulla Corsa e il benessere perché pensando ai miei trascorsi che di agonista e poi di amatore hanno voluto che io praticamente relazionassi come la corsa o lo sport in generale possa trasformarsi in qualcosa di beneficio sia per quanto riguarda il fisico che la mente. Oltre passando dall'intensità, quale può essere la gara, la ricerca della gara quindi lo sforzo a quella che è la resilienza, cioè la positività, a quella che la corsa poi o la corsa in questo caso, nel caso mio o lo sport può dare quando praticamente si cercano altri benefici quali quelli praticamente dello stare bene con se stesso.